Arezzo Wave vola a Parigi con il meglio della musica italiana, da Enrico Ruggeri a Petra Magoni, da Paolo Benveniù alle cose importanti e molti altri artisti. Dal 21 giugno al 15 dicembre, infatti, il giardino e i saloni del prestigioso Hotel Galifée, sede dell'Istituto Italiano di Cultura nella capitale francese, ospiteranno Arezzo Wave in Parigi. Noi saremo l'unica città che sarà presente in un istituto così prestigioso quest'anno a promuovere con il nome il nostro territorio e quindi la nostra città. Ad esibirsi alcuni degli artisti più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano per un programma variegato di proposte tra musica e letteratura che affianca grossi nomi ad alcune straordinarie nuove proposte. Gli artisti sono un po' nello stile di Arezzo Wave, nomi famosi e altri piccoli piccoli come conoscenza però che cresceranno. Negli spettacoli gli artisti dedicheranno poi un intervento ad un brano a Dante in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta collegandosi così al progetto Dante Rock di fondazione Arezzo Wave. Dante Rock va benissimo, abbiamo avuto ieri un incontro in regione e stiamo pensando a una serata conclusiva appunto il 13 novembre che volevamo fare ad Arezzo, loro vogliono fare a Firenze. Loro sono molto determinati a farla a Firenze dove celebrare questo sommo poeta con delle canzoni dedicate a lui e facciamo per questo un concorso con il premio dei soldi per il più creativo. E quindi va molto bene, chiuderà il 25 maggio se chiediamo ai gruppi un brano sulla stregua di Caparezza che ha fatto Argenti vivere riprendendo un pasto di Dante che possa parlare della Divina Commedia.